Voglio dire che mia figlia ha subito tante violenze, ha fatto denunce su denunce ma tutte archiviate. Perché? Forse perché il marito è una delle forze dell'ordine? Vogliamo sapere perché sono state archiviate tutte le nostre denunce in 15 giorni senza tanto fare le indagini oppure solo indagini da parte delle forze armate.